Autotrasportatore grave dopo la caduta da un'altezza di circa 3 metri, è accaduto all'ex ondulati giusti di alto pascio. È massone, i 5 stelle scaricano Piero Landi, il candidato alla camera sarebbe scritto ad una loggia, il movimento gli avrebbe chiesto di rinunciare al seggio. Renzi e il PD firmano l'anagrafe antifascista, segretari del partito e ministri Martina del Rio, Fedeli e Orlando hanno fatto visite ai luoghi dell'Ecidio di Sant'Anna di Stazzeno. Iscrizioni nelle scuole, primi i licei che si confermano le scuole con il maggior numero di ingressi in provincia di Lucca per l'anno scolastico 2018-2019, secondo i dati forniti dal Ministero. Ucci l'Immortale rilancia la sfida, 10 volte campioni italiani rally, Paolo Andreuco, Ucci e Andreussi difenderanno il titolo tricolore con la Peugeot T16 R5, primo rendezvous il 41esimo rally del Ciocco e della Valle del Serbio. Scatta il Cefa 2018 con la fase regionale dal 25 febbraio, 5 domeniche per stabilire la squadra della Toscana che accederà alla finale internazionale dal 29 aprile al 1 maggio. Il torneo è riservato alla categoria Aquilotti. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi che apriamo con la cronaca e con un grave incidente che si è verificato ad alto pascio, i particolari nel servizio. È scivolato da una scala mentre stava caricando materiale sul camion di una ditta esterna ed ha sbattuto violentemente la testa provocandosi numerosi traumi. È grave un autotrasportatore di 61 anni rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro mentre si trovava nel piazzale del capannone della Progest ondulati giusti di via delle Cerbaie ad alto pascio. L'incidente si è verificato poco dopo le 13. A dare l'allarme è stato il personale dell'azienda addetta al magazzino che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Al personale del 118 le condizioni del camionista sono comunque apparse subito gravi. Si è quindi deciso di fare intervenire anche l'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Alto Pascio che insieme ai tecnici della prevenzione e della sicurezza su luoghi di lavoro dell'ASL stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autotrasportatore sarebbe caduto da un'altezza di circa 3-4 metri, forse dopo aver perso l'equilibrio mentre spostava della merce in consegna. Una bufera improvvisa e devastante su Piero Landi, candidato del Movimento 5 Stelle al Collegio Uninominale per la Camera a Lucca e Massa Carrara. I vertici del Movimento gli avrebbero chiesto di rinunciare al seggio perché si è scoperto che sarebbe scritto alla massoneria. Tutto è iniziato con una notizia pubblicata dal quotidiano Il Foglio, secondo il quale il candidato Pentastellato sarebbe scritto alla loggia massonica Burlamacchi di Lucca. Sempre secondo il quotidiano, Landi ha negato la cosa, dicendo però che alcuni massoni erano iscritti all'associazione Punto e a Capo, da lui fondate dalla quale si era poi dimesso. Nel frattempo però la notizia è rimbalzata sui maggiori mezzi di informazione italiani e dopo poche ore è stata pubblicata sui siti una nota del Movimento 5 Stelle che si riferisce non solo a Landi ma anche a Catello Vitiello, un altro esponente grillino che sarebbe massone. Vitiello e Landi al momento della sottoscrizione della candidatura non hanno detto la verità e non ci hanno informato di far parte di una loggia massonica, si legge nella nota. Per questa ragione non possono stare nel Movimento e sempre per questo motivo gli sarà chiesto di rinunciare al seggio. I 5 Stelle, si legge ancora nel comunicato, inibiscono Landi e Vitiello dall'utilizzo del simbolo e si riservano di agire nelle opportune sedi al fine di risarcire eventuali danni di immagine cagionati al Movimento. Parliamo anche dello scandalo doping nel ciclismo a Lucca, ci sono stati gli interrogatori davanti al GIP ma tutti e sei gli indagati accompagnati dai loro avvocati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per il momento restano confermate per tutti e sei gli indagati le misure degli arresti domiciliari. Quattro ministri PD e Matteo Renzi firmano l'anagrafe antifascista Sant'Anna di Stazeno. Quattro ministri del Partito Democratico, Del Rio, Martina, Fedeli e Orlando e l'ex premier Matteo Renzi, segretario dei Democratici, da oggi sono iscritti all'anagrafe antifascista del comune di Stazema. La firma è avvenuta nel luogo simbolo dell'eccidio del 44 che costò la vita a oltre 500 innocenti. Una folta a delegazione era presente tutta del Partito Democratico, ministri, sottosegretari di governo, parlamentari uscenti e candidati e anche millennials, i giovani democratici. Dopo un omaggio al cippo commemorativo nella piazza della chiesa di Sant'Anna, il gruppo guidato dall'ex presidente ha raggiunto l'ossario delle vittime dove ha incontrato e salutato i superstiti dell'eccidio e i familiari, poi la firma digitale sul tablet dell'anagrafe antifascista di Stazema. E troviamo necessario aderire all'elenco di quelli che dicono che il nazifascismo è stato il male assoluto, ma se c'è un luogo simbolo quello è Sant'Anna di Stazema. Ma è bene dire con forza che gli nazisti non avrebbero potuto fare tutto quello che hanno fatto se non fossero stati accompagnati dagli italiani, dai fascisti. Il nostro paese è stato corresponsabile di quella tragica pace e non c'è nessun revisionismo storico che possa cancellare il fatto che quei bambini sentivano l'accento della veressia che non si segna nelle scuole tedesche. Una risposta diretta nel mezzo della campagna elettorale a Matteo Salvini che aveva detto mi limiterei all'anagrafe canina, dichiarandosi poi contro tutti i regimi e contro la violenza. Non si tratta solo di un'iniziativa simbolica, ha spiegato il sindaco di Stazema, Maurizio Verona, fautore dell'anagrafe antifascista che da dicembre a oggi ha raccolto oltre 33.000 adesioni. L'adesione non è un'adesione fine a se stessa per fare aumentare il numero. L'adesione c'è scritto nella carta di Stazema che impegna, che aderisce a portare avanti i valori che la Costituzione italiana rappresenta. Mi auguro che questa sia un'iniziativa che si radichi soprattutto nelle menti di chi aderisce perché la propaghi il più possibile alle giovani generazioni. Restiamo in Versilia, scoperta una maxi-evasione denunciati tre imprenditori del marmo. Scoperta dalla Guardia di Finanza Via Reggina una maxi-evasione fiscale perpetrata da alcune imprese con sede in Pietrasanta e operanti nel settore dell'estrazione e lavorazione del marmo. Dopo un'attenta attività di analisi condotta sugli operatori di uno dei settori economici trainanti dell'economia versiliese, le Fiamme Gialle hanno avviato nel settembre di due anni fa una complessa attività ispettiva che in poco meno di un anno e mezzo ha visto concludere quattro verifiche fiscali e cinque controlli nei confronti delle società riconducibili ad un medesimo nucleo familiare. Le ispezioni dei finanzieri hanno permesso di disarticolare un complesso sistema di frode fiscale basato su un giro di fatture false emesse e utilizzate dalle società del gruppo per giustificare solo cartolarmente la compravendita di ingenti quantitativi di marmo sia sul territorio nazionale che in Spagna. Per queste ultime operazioni le aziende della Versilia si avvalevano di una società iberica avente solo formalmente sede alle isole Baleari ma di fatto operante in Italia e riconducibile agli stessi imprenditori. Accertata la frode milionaria i legali rappresentanti delle società avversilesi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per i reati di emissione e utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti mentre al legale rappresentante della società spagnola è stata contestata anche l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali. La Procura lucchese ha avanzato una richiesta di sequestro preventivo dei beni per un ammontare complessivo all'equivalente delle imposte evase. Il Tribunale di Lucca accogliendo la richiesta della Procura nei giorni scorsi ha emesso un decreto di sequestro preventivo per quasi 760 mila euro. Complessivamente l'operazione ha permesso di appurare basi imponibili sottratte a tassazione per oltre 7 milioni di euro, fatture false per più di 4 milioni e mezzo e quasi 1 milione e 400 mila euro di IVA, nonché di sottoporre a sequestro i due immobili di lusso a Forte dei Marmi. Ed ora parliamo invece delle iscrizioni per le scuole in vista dell'anno scolastico 2018-2019, quello che emerge secondo i dati del Ministero. I licei si confermano la scuola secondaria con il maggior numero di iscrizioni in Toscana anche per il prossimo anno scolastico. Per il resto aumentano gli iscritti agli istituti tecnici mentre sono in leggero calo gli studenti che scelgono gli istituti professionali. Questo è il quadro delle iscrizioni nelle scuole toscane per l'anno 2018-2019 fornito dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Ma vediamo la situazione in provincia di Lucca che più o meno ricalca quella a livello regionale. Ad oggi le nuove iscrizioni ai professionali sono 417, agli istituti tecnici 875 e dai licei 1798 per un totale di 3090 nuovi studenti iscritti. Scendendo più nel dettaglio nelle iscrizioni ai licei, il maggior numero di iscrizioni si registra ai licei scientifici 848, seguono i licei linguistici 350, i licei delle scienze umane, 231, gli artistici 218 e i classici 116. Chiude la graduatoria il liceo musicale con 35 nuove iscrizioni. Infine diamo uno sguardo alla scuola primaria e quella di primo grado. In provincia di Lucca le iscrizioni alla primaria per il prossimo anno scolastico sono 2970, siamo al terzo posto in Toscana dopo Firenze e Pisa. Stessa identica posizione in graduatoria per la scuola di primo grado, per le quali le iscrizioni a Lucca sono 3.350. A Fornaci è arrivata, come aveva annunciato il sindaco di Barga Bonini, la centralina di rilevamento ambientale. Si tratta di una centralina mobile che rimarrà a Fornaci nel piazzale del Frate per una quindicina di giorni. In totale sono previsti quattro monitoraggi, ha spiegato il sindaco. Altri tre si svolgeranno nell'arco di un anno. Già tra 15 giorni, ha concluso Bonini, Arpat ci dovrebbe informare sui primi dati relativi alla qualità dell'aria. Leo Brower agli Open del Boccherini. Interpreti di rilievo internazionale, la collaborazione con il Teatro del Giglio e l'attività concertistica che si allarga a Via Reggio e alla Versilia. Torna con un programma ancora più ricco la stagione Open dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini, contenitore culturale che raccoglie concerti, conferenze e momenti di approfondimento. Oltre 80 gli eventi che si succederanno da febbraio a ottobre, 32 concerti di cui 7 con l'orchestra dell'Istituto guidata dal maestro Giampaolo Mazzoli, una realtà che si sta fortemente affermando nel panorama nazionale e non solo. 21 performance con protagonisti gli studenti che si esibiranno in tutta la provincia, 26 masterclass, 5 seminari, 2 conferenze e una mostra di liuteria. Sono questi i numeri di un Open che riflettono sempre di più la crescita del Conservatorio Cittadino e gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni. Su tutto spicca in questo 2018 la presenza di Leo Brower, chitarrista e direttore d'orchestra cubano, tra i più grandi e noti compositori contemporanei. Averlo ospite all'interno della nostra stagione Open, in particolare all'interno del Guitar Festival, ritengo che sia un evento veramente eccezionale. Lui farà una conferenza, assisterà delle masterclass e sarà presente al concerto di musiche per orchestra e per chitarra e orchestra che verrà fatto in questa occasione con la nostra orchestra direttamente dal maestro Mazzoli. Dei grandi artisti della concertistica, quelli dei fornelli potremmo dire, per parlare di una gustosa, ghiotta, gara che si svolgerà a Castelnuovo Garfagnano ai primi di marzo e che riguarda un dolce, un tipico piatto, la pasimata. Come spesso accade, le idee migliori nascono così, quasi per caso, come quella di organizzare a Castelnuovo Garfagnano un concorso dedicato al tipico dolce pasquale garfagnino, ovvero la pasimata. L'idea è stata accolta al volo e concretizzata in un simpatico concorso dalla locale associazione Compriamo a Castelnuovo, ConfCommercio e la condotta Slow Food Media Valle Garfagnana. La gara gastronomica si terrà nella giornata del 17 marzo, presso l'oggiato Porta nel cuore di Castelnuovo. Al mattino saranno in competizione i professionisti, gastronomi, fornai e pasticceri, mentre nel pomeriggio toccherà i privati. La pasimata è un tipico dolce pasquale che trova le sue origini nella garfagnana rinascimentale e forse medievale, come ci sottolinea il professor Luigi Lucchesi, riferendosi a Castiglione Garfagnana. Siamo nel 1638 e la famiglia Righi ha dato un lascito in cui si deve provvedere alla preparazione della pasimata. Questo tipico dolce si realizza con poche materie prime e tanta passione. Le vasi sono farina, uova, burro, strutto, zucchero, lievito madre, uvetta sultanina e un cucchiaio di semi di anice. Sono questi i prodotti base che ovviamente subiscono delle piccole variazioni secondo le abitudini di chi la cucina. Questo dolce cambia anche il nome a seconda delle zone, a Piazza Cerchio e dintorni si chiama Crescenta o Crescenza, a Valle e Gorfigliano e zone limitrofe, Schiaccio o Schiacciata, mentre il nome Pasimata è quello più adoperato nella media valle del Cerchio e Bassa Garfagnana. Le iscrizioni a concorso sono gratuite per i privati, per i professionisti e è prevista una piccola quota che comprende anche della pubblicità. Le iscrizioni dovranno pervenire all'associazione Compriamo a Castelnuovo entro il 10 marzo. Sarà poi una giuria qualificata a stabilire che si aggiudicherà la Pasimata d'Oro Garfagnana 2018. In dolcezza si chiude questa prima parte del TG Noi, ci concediamo una breve interruzione pubblicitaria ma torniamo subito dopo con le notizie sportive.